Il campo da gioco, in questo caso e in molti casi, il campo del calcio è sempre scena di violenza. Questa volta tocca a due giocatori che stanno facendo un incontro che riguarda gli Emirati Arabi Uniti. Un giocatore è Nenè, un ex Paris Saint Germain, e l'altro è Sharia. Praticamente Nenè colpisce l'altro, Sharia dandogli un cazzotto incredibile sulla Tempia dopo che quest'ultimo lo aveva spintonato in malo modo. Ma la lite è comunque continua perché poi c'è la reazione di Sharia che insomma salta proprio verso l'altro. Veramente un video che potete vedere cliccando in alto soltanto se siete sul computer, vi ricordo, non tramite cellulare. Ma insomma veramente è una scena su cui pensare. Via!